Come si fa a capire esattamente cosa vi appassiona nella vita? E vi faccio questa domanda, primo perché è l'argomento principale di molte mail che ho ricevuto negli ultimi tempi e secondo perché ciò ha un forte impatto sul carisma che ho stentato in una prima impressione. Io posso darvi tutti i consigli del mondo per un sorriso meraviglioso, sul come mantenere il contatto visivo, ma quando ricevete questa domanda, che cosa fai? E tu non hai un hobby che ti intrattiene e non ami il tuo lavoro e tutto ciò che riesci a dire è Ah, sai, sono un commercialista. Non importano tutte quelle cose sul linguaggio del corpo, sarà tutto comunicato inconsciamente. Il fatto di non essere coinvolti nella vostra vita per quello che fate viene comunicato chiaro e tondo. Scoprire cosa vi appassiona e aggiungerlo alla vostra vita, sia professionalmente che come hobby, è fondamentale per essere carismatici. Quindi quello che voglio farvi fare oggi è qualcosa di molto pratico. Prendete un foglio e scrivete. Ho quattro domande che vi aiuteranno a capire il genere di cose che dovreste fare di più nella vostra vita, perché quelle sono le vostre passioni e attrarranno gli altri a voi quando ne parlerete. Questa è la prima. La prima domanda è qual è quella cosa che puoi fare che ti fa immergere dentro te stesso, che ti fa perdere la cognizione del tempo. Magari domani alle tre del mattino, appena ti svegli, potresti pensare ma come diavolo ho fatto a passare le ultime otto ore facendo quella roba? Continuate a scrivere la lista, niente moralismi. Se anche la risposta fosse, non so, i videogiochi, scrivetelo. Non stiamo cercando qualcosa che sia economicamente redditizio, stiamo cercando quelle cose che vi portano in un flusso, perché se siete in un flusso, significa che siete talmente coinvolti in quella cosa che ci tenete davvero, giusto? Quindi, uno, cos'è che vi fa perdere la cognizione del tempo? Due, per quali attività siete felici di spendere i vostri soldi? Io, per esempio, uscivo tutto il tempo, anche se non mi sembrava importante ai tempi. Andavo nei bar, pagavo il coperto, pagavo i taxi. Se aveste guardato il mio conto in banca, avreste visto che spendevo una grossa percentuale dei miei soldi per andare in posti in cui potevo interagire con la gente e magari incontrare una ragazza che mi piacesse. Era qualcosa che mi coinvolgeva. Pensate alla vostra vita. Per cosa spendete i soldi che vi siete sudati? Perché significa che ve ne importa così tanto da spenderci soldi? Terzo, in quale aspetto della vostra vita temete il giudizio? C'è qualcosa nel vostro lavoro, che siano canzoni o poesie o qualsiasi attività che temete di condividere con le altre persone per paura di essere giudicati? Perché significa che ve ne importa moltissimo. È parte della vostra identità e quindi lavorate duro per migliorarvi. Quando ripenso alla mia vita, per me era la scrittura. Ho scritto fin da piccolo, seguivo tutti i corsi di scrittura creativa ogni volta che potevo, ma avevo paura di pubblicare nel giornalino della scuola o nei blog o altro, perché era una parte fondamentale di ciò che sono, capite? Ci sarei rimasto malissimo se a qualcuno non fosse piaciuto come scrivevo. Questo non è il caso, ma rimaniamo in questa tematica. Cos'è che avete paura di condividere? Le cose importanti per voi, su cui lavorate sodo? E naturalmente la numero quattro. Cos'è che vi emoziona? Quali sono quelle cose che nella vita vi fanno aumentare il battito? Se mi guardo indietro, per me è sempre stato molto chiaro. Le interazioni sociali. Ero un bambino molto timido. Quando incontravo uno sconosciuto, mi veniva l'ansia, soprattutto se volevo che quel qualcuno diventasse mio amico. O se si trattava di una ragazza che mi piaceva. Ragazzi, il mio battito andava a palla. Quindi pensate alla vostra vita. Cos'è che vi viene in mente? Potete iniziare a scrivere film horror, fare paracadutismo, qualsiasi cosa. Date un'occhiata alla lista e fatene un'altra delle cose che sinceramente vi fanno sentire vivi. E ve ne rendete conto, perché il vostro corpo vi risponde. Così avrete una lista di queste quattro cose, magari con qualcosa in comune tra loro. Lo scopo dell'esercizio è far uscire le cose a cui tenete, ma che potreste nascondere a voi stessi. Perché un fenomeno molto comune oggi è che abbiamo queste passioni che sono centrali per noi. Nel mio caso la scrittura e la socialità. Ma abbiamo paura di condividerle con gli altri perché sono troppo importanti per noi. Abbiamo paura di farle diventare il nostro lavoro o anche solo un hobby, giusto? Se doveste occuparvene seriamente, scriverlo su un blog o su internet. Quindi prendete questa lista, vedete se ci sono punti in comune, cose che sono importanti per voi, a cui davvero tenete e in cui potreste concentrarvi di più. E non è solo per voi stessi, perché non solo migliorerà la qualità della vostra vita, ma quando incontrerete altre persone dovete avere quell'entusiasmo che vi serve per la domanda cosa fai. E se il tuo lavoro non ti gratifica, se i tuoi amici sì, ti piacciono, ma non del tutto, e hobby che, non so, tipo il calcio della domenica, queste cose non ti aiutano a connetterti con le persone che vuoi nella tua vita. Quando avete una passione, attrarrete altre persone esattamente come voi, o magari anche altre persone con passioni completamente diverse, ma che si attraggono a vicenda per l'intensità delle cose a cui tengono. Quindi spero che questo esercizio vi sia utile, spero lo userete e se vi interessa altro sull'argomento, abbiamo creato un video con le quattro emozioni che vi garantiscono una buona prima impressione su chiunque, sempre. Emozioni che aggiunte alle vostre risposte, a quelle domande tipo, cosa fai, da dove vieni, usando quelle quattro emozioni avrete sicuramente successo nelle vostre prime impressioni. Quindi, se volete scoprire quali sono queste quattro emozioni, cliccate il link che comparirà qui, vi porterà sulla pagina dove inserire la vostra mail e poi avrete quel video. Se potete, per favore, commentate qui sotto cosa avete trovato nelle vostre risposte. Sono molto curioso di saperlo e se avete qualsiasi domanda, fatela pure nei commenti. Alternerò tra video di analisi sul carisma e video come questo, in cui rispondo alle vostre domande. Ultima cosa, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Ogni lunedì usciranno nuovi video, analisi del carisma di celebrità, linguaggi del corpo, contatto visivo e altro ancora, per essere più carismatici e sicuri di voi stessi nella vita di tutti i giorni. Io sono Charlie, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo.